buon pomeriggio a tutti e grazie innanzitutto è un piacere sentire da palazzo chigi nominare già roberto casaleggio dato che è stato diffamato anche durante gli ultimi giorni della sua vita per quanto mi riguarda io non parlo a titolo personale porto la voce di tante persone che evidentemente parlano di politiche hanno bisogno di piazzare tematiche politiche per quanto riguarda quello che io credo appunto nessuno qui è nostalgico tutti quanti noi guardiamo al futuro del movimento del paese quello che a me preme dire che la più grande ricchezza della forza politica è il voto di opinione alle volte si può perdere in democrazia alcune elezioni comunali regionali tra l'altro spesso e volentieri non le abbiamo perse però mantenendo un'identità si rafforza la possibilità successiva di prendere tanti tanti voti di opinione è sempre stato così io non vedo l'ora di poter rimettermi in prima linea con il movimento 5 stelle vedremo come e in che ruolo e così come non vedono l'ora tantissime persone che vogliono soltanto battagliare che hanno fatto tanti sacrifici io e tutte queste persone abbiamo tuttavia bisogno di garanzie e le garanzie le dico le elenco una sull'altra una dopo l'altra uno e mi rivolgo anche al presidente del consiglio e tutti i ministri la revoca definitiva delle concessioni ai benetton autostradali perché ogni pedaggio che viene pagato ancora e che entra nelle tasche di quella famiglia è è una violazione addirittura della memoria dei morti due una presa di posizione chiara rispetto al tema del conflitto di interessi tra sistema finanziario e gruppi mediatici e mi riferisco banalmente anche all'accentramento del potere mediatico nelle mani del gruppo exor degli elcar e poi la risoluzione una presa di posizione preludio a battaglia in parlamento sul tema del conflitto interessi tra politica e finanza perché per quanto mi riguarda indecorosa l'ultimo esempio appunto che riguarda l'ex ministro padoan che probabilmente si siederà alla presidenza di unicredit e che forse condurrà la possibile acquisizione di mps dopo averla salvata da ministro dell'economia delle finanze con denaro pubblico oltretutto risolvere questi conflitti e conflitti intervenire su tema finanza e politica è il miglior modo in una fase post pandemica di salvaguardia del risparmio degli italiani in una fase di molta molta problematicità economico finanziaria tre che venga scritto nero su bianco che non vi sarà nessuna deroga al doppio mandato per consiglieri regionali parlamentari parlamentari europei quattro che qualunque legge elettorale dovesse essere approvata il movimento cinque stelle si presenterà alle prossime elezioni politiche da solo qualunque legge elettorale dovesse essere approvata cinque che il movimento non appoggerà mai una legge elettorale senza le preferenze questo per togliere del potere di diciamo di controllo alle segreterie politiche e per garantire un diritto a tutti i cittadini che hanno il sacrosanto diritto di scegliersi i loro portavoce o rappresentanti nelle istituzioni sei per me un punto molto importante e nessuno si senta attaccato da da me su questo punto io sono solo innamorato del movimento cinque stelle della trasparenza e della meritocrazia e sono convinto che si possa rilanciare questo movimento con una compattezza che evidentemente però va trovata e affrontata anche sulla base della risoluzione in questi nodi politici qual è questo punto l'istituzione di un comitato di garanzia all'interno del quale parteciperanno iscritti al movimento e portavoce non esponenti del governo che riesca a fare e a scrivere delle regole chiare trasparenti e meritocratiche su tutte le nomine da effettuare all'interno dei ministeri e soprattutto nelle partecipate di stato e che entro i prossimi sei mesi pubblichi una lista di tutte le nomine effettuata dai responsabili dagli esponenti del movimento cinque stelle con curricula e compensi percepiti questo perché il tema della meritocrazia è l'unico tema che può convincere tanti tanti giovani a ritornare a sostenere questa forza politica che ha innumerevoli meriti ma che deve anche fare autocritica perché altrimenti non si va avanti senza l'autocritica i meriti ci sono guardate la differenza tra quello che veniva approvato in sedicesima legislatura e quel che è stato approvato in diciottesima e io dico grazie a coloro ai parlamentari che l'hanno fatto agli esponenti del governo ma autocritica significa anche rafforzarci e portare avanti delle battaglie con ardore perché altrimenti l'indebolimento del movimento cinque stelle potrebbe far sì che la restaurazione al prossimo giro al prossimo alle prossime elezioni politiche potrebbe essere repentina da parte di tutte le forze politiche con le quali abbiamo anche governato in questi ultimi due anni questo è un atto d'amore nei confronti del movimento cinque stelle e delle prese di posizioni certe ricordando a tutti che governare che il mio obiettivo sempre altrimenti non mi sarei fatto il mazzo da non candidato deve essere il mezzo con il quale risolvere i problemi e non il fine perché si diventa il fine ultimo delle forze politiche governare si può partecipare a posizioni di potere ma il cambiamento sarà effimero e illusorio grazie a tutti e viva il movimento cinque stelle Grazie 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 Grazie